Vorrei ricordare una cosa, che verrà applicato il 17, cioè il martedì prossimo, alla chiesa del Carmine, per cui se vi è piaciuto venite di nuovo e invitate i vostri amici, se non vi è piaciuto lo dite solo ai vostri amici. Grazie. Grazie per cui i ragazzi interessati possono venire e partecipare a queste cose qua, che durante l'anno ne faremo tante altre. Io voglio invitare a domenica, a domenica, a domenica, a domenica, a domenica, a domenica. Grazie. 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 Oggi, accanto a quella povertà che appunto nasce dalla difficoltà economica, c'è anche una povertà affettiva. Siamo, abitiamo in grossi palazzi e molto spesso non ci conosciamo, non ci salutiamo, siamo a volte dalla diffidenza e la grande povertà che oggi è molto diffusa tra di noi è la solitudine. E allora questa sera noi vogliamo ricordarci di tutti i poveri, quelli che sono in difficoltà economica, quelli che stanno attraversando un momento difficile, ci vogliamo tutti provocare oggi. Il bambino che ha scelto di diventare uomo e ha scelto di diventare il più piccolo tra gli uomini. E noi cantiamo a lui e questa sera, guardando lui, attraverso di lui abbiamo guardato questi libri di lei del Padre. E per questo motivo noi ringraziamo questi giovani e ricordarli che in paradiso si va non da soli, e in paradiso si va con i poveri. Quindi se ci facciamo amico un povero, il povero ci accompagna per dirsi, si è rubato Gesù. Grazie. 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 Grazie.